La situazione epidemiologica a Chieti e in provincia, i risultati dello screening per gli studenti che si sono tenuti nell'ultimo weekend sono stati al centro della conferenza stampa che hanno tenuto i vertici della ASL di Vasto Lanciano Chieti. Questa mattina alle nostre spalle nell'ex palazzina Sebi, sede della direzione generale della ASL, conferenza stampa presieduta dal direttore generale Thomas Scheil. La domanda tra tamponi per verificare la positività e tamponi di guarigione e riammissione in comunità sono molto di più, per cui stiamo stipulando la convenzione con un altro laboratorio e appena firmato noi aumenteremo anche i drive-in per dare risposta alle numerose domande che ci sono, ma chiaramente raccomando anche chi non ha avuto sintomi dopo un tampone positivo di rifare l'antigenico invece di intassare il drive-in per molecolare. Abbiamo effettuato circa 35.000 test di screening con un tasso di positività di circa il 3%, hanno partecipato 65 comuni della provincia di Chieti e altri 10 parteciperanno il prossimo fine settimana, che sono quei comuni in cui i sindaci avevano fatto le ordinanze di chiusura e quindi di riapertura la settimana successiva, per cui abbiamo concordato di spostare lo screening di una settimana. Una cosa importante da dire è che abbiamo aumentato appunto gli slot sui singoli centri vaccinali, quindi è estremamente importante che le persone che si presentano a fare la vaccinazione siano dotati di prenotazione. È importante da dire che sono stati aumentati anche gli slot pediatrici, quindi attualmente in piattaforma abbiamo più di 3.000 slot pediatrici, quindi anche i nostri bambini trovano risposta nei nostri centri. Per quanto riguarda invece gli over 50 che hanno l'obbligo vaccinale con la problematica dal 1 febbraio, stiamo organizzando degli open day vaccinali dedicati esclusivamente a questa popolazione. Quindi lì sarà l'unica, diciamo così, le uniche occasioni in cui ci si può presentare senza prenotazione, chiaramente se si è la popolazione target, quindi persone over 50 con l'obbligo. Noi abbiamo in questo momento 84 pazienti in ospedale tra Chieti e Vasto, di cui 9 in rianimazione, in rianimazione 7 su 9 sono non vaccinati, per cui i più gravi sono i non vaccinati. Rimano confermati che il vaccino è la prevenzione migliore per non prendersi un Covid grave.